Siccome non faccio nessun tipo di manovra, sono i miei figli che la fanno come servizio che gli dico, vai, riga al bancomat. È sbagliato perché se uno ha bisogno di prendere soldi, credo che è nel suo diritto poterli prendere. Non sono informato, ma se è così è una cosa sbagliata. Non tutti, soprattutto per gli anziani, c'è questa possibilità di utilizzare le carte e quant'altro. Ci complicano le piccole operazioni. Avere qualche centinaio di euro in tasca fa sempre comodo per fare le piccole cose, senza dover controllare i strati conti lunghi un chilometro a fine mese. Un altro po' ci manderanno a bere il caffè col bancomat, non lo so. Non credo che sia giusto. Comunque sono le cifre abbastanza contenute che si può anche mantenere a questo livello. Giusto sì da un punto di vista fiscale, per l'evasione fiscale. Forse anche per la praticità, ma ci vogliono degli anni. Sì, secondo me, per che gli italiani si abitano a questo sistema, carte di credito, eccetera. Comunque sì, è giusto. È una questione di colpi, secondo me. È una questione di sistema. Il sistema in Italia, purtroppo, favorisce chi vuole fare il furbo e penalizza chi paga le tasse. È sbagliato. Perché? Perché lo stesso c'è... Chi vuole rubare, ruba lo stesso. Trova sempre una scusa inutile. Sono scusi inutili, potrebbero fare altre cose migliori. Tipo? Diminuirci gli stipendi grandi, grossi, finire tutte le opere pubbliche che ci sono in giro. E tutti questi personaggi che hanno tanto soldi in più, darele ai poveri. Dacirei. 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 Grazie a tutti.